Venivano stoccati qui, ma direttamente sul cattaggio. Abbiamo avuto imprese della valle che hanno lavorato parecchio. Siamo nel cuore della Val di Susa, a tre chilometri, dentro la montagna, nella galleria. Ministro Di Maio, guardi questa infrastruttura, questo cantiere. Si renda conto che qui è tutto bloccato in virtù delle scelte folli che questo governo sta compiando. Qui rischiamo di pagare una penale di 4 miliardi di euro a fronte invece di un costo di 3 miliardi. E' una follia. Io dico al Ministro Salvini, sei in grado di votare la nostra mozione in Parlamento per far ripartire l'opera? O vivi ancora nella propaganda di raccontare con le immagini il tuo sì alla TAV per poi invece assecondare le scelte di questo governo che vogliono bloccare tutti? Noi siamo per far ripartire questa opera, perché è un'opera fondamentale per tutta l'Italia, non solo per questo territorio.